L'economia europea deve cambiare, deve cambiare profondamente, perché la politica dell'austerity ha danneggiato soprattutto quelle popolazioni che avevano bisogno di rilanciare lo sviluppo economico. Questo è gravato sulle famiglie d'Europa, ma è gravato in particolare sugli imprenditori d'Europa. C'è un detto, il tetto si ripara quando splende il sole. Ecco, in questo momento sta piovendo e non è assolutamente il momento della politica dell'austerity.